Grazie a tutti Sono molto sicura e ho fatto un po' del mio e ho perso la fine quindi da quella regata sono stata sempre molto conservativa e oggi alla prima regata mi è dispiaciuto perché ora inizio a avere una buona velocità le partenze le sto facendo bene però non ho mai rischiato quindi sono rimasta lì, ho finito settima la seconda regata che era un po' motivata e arrabbiata dalla prima finalmente ho regatato meglio, ho preso più iniziativa e ero abbastanza indietro, ho fatto un recupero bellissimo e ho finito sesta quindi sono abbastanza contenta, la posizione in classifica è sempre rimasta uguale sono settima però mancano ancora quattro regate più spero la medal race quindi in teoria c'è molto da fare Assolutamente sì, lo speriamo ovviamente anche noi e ci vediamo dopo la prossima grazie mille Flavia, grazie